Colleghiamoci sul sito della Regione Marche, clicchiamo il banner Ufficio Speciale Ricostruzione Marche. Dal menu di sinistra Ricostruzione Marche selezioniamo Pratiche presentate USR. Inseriamo il nostro codice fiscale e clicchiamo Effettua la ricerca. Qui troviamo il numero di fascicolo della nostra pratica, il progettista e la data di presentazione del progetto. Clicchiamo. Qui troveremo il numero della pratica, l'ordinanza come si fa riferimento, il nome dell'istruttore e in maniera riassultiva lo stato della pratica, la tua pratica è nella fase, in questo caso USR l'autorizzazione al pagamento in salvo. Troveremo anche i recapiti dell'ufficio ricostruzione. Qui troviamo lo stato della pratica che si divide tra quattro uffici, Ufficio Speciale Ricostruzione, Comune, Professionista, Conferenza dei Servizi. In verde abbiamo gli stati completati, in giallo la fase in tempo reale della pratica, in rosso in caso la pratica venisse regettata. Ulteriori dettagli invece sui tempi si possono trovare cliccando la lente. Ad esempio nella verifica di ammissibilità del USR potrai trovare la data di domanda di richiesta del contributo.